buonasera con noi stasera iphone 12 128 giga grado a ottimo non è a a perché ha un graffettino nello schermo roba di niente e 2 grado a 64 giga il 128 520 euro di 64 giga 490 euro vado a memoria ma comunque ciò che appare sotto fondello punto it abbiamo il negozio a mondello scrivendo iphone sulla barra cerca interna se siete interessati iphone trovati 13 14 proprio max xr iphone 11 tutto tra gli usati anche i nuovi ma il nuovo di suo uscito dal negozio diventa usato quindi è perdente nuovo usato se dato fondello acquistato in fase ripermuta vale più di uno comprato da altre parti insomma ho parlato di iphone ma lo stesso vale per oppo samsung macbook console il giro da 23 anni è continuo contattateci numeri recapiti orari trovate tutto sul sito internet o sulle nostre pagine dei social network alla prossima